Salve a tutti oggi vedremo dopo che abbiamo installato il programma sia in locale o su un hosting internet come altervista che è completamente gratuito oggi vedremo il lato amministrativo del programma vero e proprio cioè il cuore del programma allora ci andiamo a logare con i dati che abbiamo inserito in fase di installazione andiamo su admin andiamo andiamo su utenti prima di cosa di tutto bisogna andare a creare i gruppi perché? allora se voi siete un semplice gas piccolo di 10-20 persone non è importante ma se voi siete un gas di una grande città dove per esempio mettiamo Roma ci sono vari tipi di gas dipende nelle zone tipo Roma-Balduina Roma-Montesacro Roma-Nomentano eccetera e voi siete collegati con vari produttori o vi passate i vari prodotti ebbene deve fare una registrazione dei gruppi in modo che quando un gruppo cioè un gas che non è il vostro fa un ordine vi praticamente non vi crea confusione questo perché perché è possibile usare cioè usare un singolo programma per vari gas naturalmente in questo non in locale ma su un hosting anche ad altre viste va bene allora adesso andiamo su un nuovo gruppo qui non inseriamo niente perché dato che è una nuova installazione non ci sarà nulla nome del gruppo mettiamo tipo Roma-Balduina scriviamo la descrizione del gas lo attiviamo e salviamo poi adesso veloce veloce ne creiamo un altro sempre la stessa procedura mettendo sempre la descrizione lo attiviamo e lo salviamo ora adesso che abbiamo creato i gruppi andiamo nuovamente a gestisci gli utenti e possiamo praticamente se abbiamo creato degli utenti gestirle e mettere direttamente dentro il gruppo nuovo se vogliamo se no dato che non l'abbiamo ancora fatto dobbiamo creare degli utenti andiamo nuovo utente il nome mettiamo il nome il cognome l'username la password e l'email questi qui sono obbligatori infatti sono contrassegnati con l'asterisco rosso l'indirizzo, il telefono, il cellulare invece non sono obbligatori poi andiamo su altro appartenente alla famiglia di io generalmente non lo uso non lo uso lo lascio così vuoto altrimenti potremmo decidere quale utente su quale famiglia viene inserito poi possiamo scegliere il gruppo e il ruolo questo è molto importante allora se scegliamo il ruolo utente l'utente non potrà accedere naturalmente al menu amministrativo potrà solo accendere al suo account gestire il proprio profilo e fare degli ordini e visualizzare i vari forum se noi invece naturalmente mettiamo admin verrà inserito e potrà gestire come vuoi il programma dentro il cuore del programma una volta fatto questo salviamo e brevemente creiamo quanti ce ne servono e poi andiamo su produttori e prodotti gestisci categorie nuova categoria e scegliamo qui possiamo scegliere le sottocategorie naturalmente dato che una nuova installazione non ci saranno mettiamo il nome della categoria la descrizione e salviamo una volta fatto questo andiamo su produttori nuovo produttore andiamo a mettere il nome dell'azienda il nome del proprietario dell'azienda come si chiama l'indirizzo il telefono il cellulare il fax l'email e il sito internet poi qui una breve descrizione questa descrizione è visibile oltre agli amministratori anche agli utenti se invece volete mettere una piccola descrizione che è solo visibile agli utenti o ai produttori stessi bisogna andare su dati privati e inserirla qui dentro poi andiamo a salvare una volta creato il produttore bisogna creare i prodotti nuovo prodotto scegliamo la categoria è il produttore il nome del prodotto il codice ora se voi siete un piccolo gas che non dovete inserire tanti prodotti potete iniziare da uno se invece siete sempre un piccolo gas o anche grande ma dovete inserire molti prodotti potete iniziare con 001 poi 002 e via dicendo qua inseriamo la descrizione del prodotto e qui la descrizione dell'imballaggio questo io di solito lo uso per inserire le spese di spedizione poi scegliamo l'immagine del prodotto in modo che verrà visualizzato durante l'ordine il peso specifica unità di misura in questo caso mettiamo chilogrammi unità minima di prodotto questo lo lasciate così fate eserciò se non sai come usarlo lasciate il valore 1 va benissimo il valore 1 di default prezzo in euro per unità mettete il prezzo singolo qua potete scegliere unità di misura per l'acquisto pezzi chili etti litri cassette scatole bottiglie eccetera dipende da cosa dovete mettere in questo caso mettiamo cassette le opzioni le lasciamo vuote clicchiamo su visualizza un campo di testo per le note e salviamo una volta salvato ci appare il il prodotto dopo di questo possiamo iniziare a fare un nuovo ordine allora noi facciamo nuovo paniere inseriamo il nome del paniere la data l'orario la data di chiusura l'orario il termine per il pagamento è l'orario la data di consegna è l'orario il termine massimo per la consegna è l'orario poi mettiamo il luogo di consegna dove verrà consegnato e delle piccole note poi possiamo salvarlo come modello poi sotto inserisci i prodotti qua ci saranno vari tipi di prodotti noi clicchiamo sopra e scegliamo i prodotti da poter ordinare gli utenti e salviamo ok ora il semplice utente per ordinare andrà sul sul proprio profilo e andrà su via digicas e sceglierà di ordinare i prodotti disponibili invece noi come utente amministrativi possiamo fare fare un ordine per un utente cosa serve serve perché ammettiamo che un utente non abbia la connessione internet o non voglia usare il gestionale ma nello stesso tempo vuole usare i prodotti del gas può delegare l'amministratore per fargli a nome suo l'ordine infatti qui sopra ordine per questo utente scegliamo gli utenti inseriti poi clicchiamo attiviamo il pallino qui seleziona andiamo su avanti mettiamo una nota se lo vogliamo la quantità e andiamo su avanti l'ordine è stato registrato ora io non l'ho io l'ho semplicemente modificato perché perché se io adesso facevo un nuovo ordine e non mettevo la data giusta qui mi appariva rosso perché adesso andiamo a vederlo come vedete l'orario e i minuti se voi fate un orario che prima dell'orario effettivo dell'ora non sarà possibile attivarlo finché non verrà raggiunto l'orario stabilito infatti se noi adesso andiamo a modificare tipo le 8 vi apparirà in rosso perché l'orario ancora deve arrivare qui possiamo esportare l'ordine sia in formato pdf che in formato excel questo è importante per un'altra opzione funzione che ci sarà che andremo subito a vedere andiamo su strumenti andiamo su file manager clicchiamo ora qui possiamo inserire tutti sia in formato pdf o in formato excel tutti gli ordini che facciamo come o creiamo una nuova cartella e dividiamo il nome che vogliamo oppure carichiamo semplicemente gli ordini dentro la cartella di default facendo carica un file scegliamo dove l'abbiamo salvato e mettiamo che sia questo facciamo carica file ecco il file ci dice che il file è stato caricato dentro il server infatti eccolo qui e qui lo possiamo visualizzare clicchiamo sopra oltre a fare questa è l'opzione singola possiamo anche scegliere l'opzione di serie cliccando qui e scegliamo nuova cartella carica un file carica un file di serie noi clicchiamo qui eccetera ritorniamo un attimo su strumenti e andiamo a vedere le pagine del sito web intanto facciamo nuova pagina cosa serve questo? serve a fare delle pagine come se il programma facesse anche la funzione di sito internet infatti qui è possibile inserire la classica home page di benvenuto come se fosse il sito internet e le varie informazioni che vogliamo far visualizzare agli utenti del gas eccetera ho questa opzione visibile anche a chi non ha accesso al programma cioè una persona che non è registrata come utente non ha password username non può ordinare ma può visualizzare le pagine che facciamo dentro il nostro programma solo con questa funzione qua solo con la funzione pagine del sito web io vi consiglio se voi avete dentro il vostro caso un utente che sappia programmare in html e in php di fare che è una cosa molto comoda un form di contatto o anche di iscrizione perché questo di iscrizione specialmente perché purtroppo l'utente non può non gestisce le le registrazioni cioè l'utente non può registrarsi come se fosse un sito internet semplice ci deve essere l'amministratore che gli da la possibilità di poter accedere invece se noi creiamo un form di registrazione facendo tipo registrati al gas qua mettiamo sempre qua mettiamo il contenuto ora però cosa qui c'è da fare una premessa dato che noi stiamo parlando di un form di contatto di registrazione bisogna inserire del codice di programmazione html php come si fa cliccando sul codice sorgente noi qui potremo inserire il codice poi cliccando qui si visualizzerà andremo su altre opzioni lo attiviamo non mettiamo la data di pubblicazione di scadenza perché tanto non serve mostra nel menu mettiamo e poi salviamo una volta fatto questo verrà si verrà visualizzato nella home page ora torniamo nuovamente sugli strumenti e andiamo a vedere le newsletter qui è possibile mandare delle news agli utenti iscritti al programma al software possiamo scegliere il gruppo destinatario mettere il titolo il testo clicchiamo su altro qui possiamo mettere un indirizzo diverso dall'email del gas per poter rispondere e clicchiamo su invia torniamo su strumenti andiamo a vedere configurazione generale qui mettiamo il nome del gas clicchiamo su aspetto scegliamo il logo del gas qua possiamo scegliere il colore dello sfondo della pagina cliccando su questa tabellina verranno inseriti tutti i vari colori così sia per lo sfondo dei contenuti che il colore dei titoli clicchiamo su email e qui inseriamo l'email del gas e salviamo la configurazione ora io ho messo un'immagine troppo grande così giusto per esempio poi ve l'ha organizzato diversamente cambiamo perché è fastidiosa ok andiamo su strumenti e andiamo a vedere adesso abbiamo visto ripilogando abbiamo visto le pagine del sito web le newslette i file manager andiamo a vedere i forum nuovo forum io di solito io consiglio di fare due forum principali uno per l'argomento problematiche riguardanti problematiche riguardanti gli ordini mettiamo qui la descrizione della tematica il livello di accesso mettiamo utente lo attiviamo e qui scegliamo importanza a uno poco importante due poco sempre poco importante tre quattro e cinque cinque diventa normale poi il sei il set l'otto molto importante mettiamo e salviamo poi ne creiamo nuovo mettiamo problematiche riguardanti il programma sempre lo attiviamo mettiamo utente e salva io consiglio di fare un'altra pagina se il programma verrà gestito da più amministratori faremo una pagina riguardante soltanto gli amministratori qui ci mettiamo la classica solida descrizione mettiamo il livello di accesso admin lo attiviamo visto questo adesso andiamo a vedere allora gli rs le tralasciamo per il momento poi casomai farò un video apposta per questo i commenti questo è importante qua vedete che io Pippo cioè l'utente il semplice utente ha messo un commento come ha fatto se lui voi andate sul vostro profilo non amministratore ma semplice profilo anche se siete amministratore andate a vai a digigas scusate mi sono dimenticato di attivare di attivare l'ordine vedete se è rosso come ho detto prima non è possibile attivarlo adesso è diventato attivo andiamo sul nostro profilo anche se siamo admin vai a digigas clicchiamo qui sull'ordine e qui potremo mettere i commenti che verranno visualizzati in questa pagina e potranno essere inseriti dagli utenti però visti soltanto dagli amministratori del programma ora ok la configurazione l'abbiamo inserita adesso vediamo le news qua possiamo scegliere nuova news gestisci le pagine gestisci le categorie cosa vuol dire che noi possiamo fare delle delle news riguardanti le varie categorie oppure fare riguardanti delle pagine particolari che inseriamo o fare una nuova news in generale mettiamo il nome della news lo attiviamo e lo salviamo torniamo a strumenti ok abbiamo visto tutto qua adesso rifacciamo un breve passaggio di tutto quello che abbiamo fatto allora abbiamo detto abbiamo creato gli utenti abbiamo prima di tutto abbiamo gestito i gruppi abbiamo creato un nuovo utente siamo andati sui produttori e prodotti e abbiamo inserito le categorie i produttori e i prodotti abbiamo inserito un nuovo ordine abbiamo visto come poter ordinare dal proprio account qui scegliamo le cassette quante ne vogliamo mettiamo delle piccole note se vogliamo ecco e acquista ora ecco mi sono dimenticato di mettere questo potete mandarvi mandami un prememoria via email cliccando qui vi verrà messo un prememoria per post elettorio ora a me non me l'ha fatto perché come vedete sono in locale torniamo su admin abbiamo detto i panieri gli ordini come fare un ordine per conto di un utente siamo andati sugli strumenti abbiamo visto le pagine del sito web le news le newsletter i commenti i forum i file manager e la configurazione generale con questo è tutto abbiamo finito alla prossima grazie